Ben tornati, ben tornati sul canale. Vince l'Inter, vince l'Inter in casa dello Young Boys a Berna, quindi sale a quota 7 punti in classifica generale di Champions League. Non conosco gli altri risultati, a parte le percuse che ha fatto 1-1 in casa del Brest, quindi come vedete la Champions è sempre la Champions. Non conosco perché, perché mi sono registrato le altre partite e quindi per non guastarmi lo spettacolo non li so e quindi non posso commentarli adesso. Posso commentare l'1-0 sudatissimo dei nerazzurri sul campo dello Young Boys, uno Young Boys diverso da quello che ha iniziato la stagione, anche per il cambio di tecnico da Raman a Magnène. Io non voglio dire che ve l'avevo detto, però un pochetto ve l'avevo detto. Un paio di video fa, se non ricordo male, comunque parlando della partita di oggi, io mi ero permesso di dire è vero che lo Young Boys ha perso 3-0 con la Stonville, è vero che ha perso male pure col Barcellone, ma innanzitutto erano due partite in cui comunque ha creato. ha fatto fuori al plioff il Klatasarai, che voglio dire, ok un mezzo cimitero di elefanti, ma è sempre una squadra che comunque, se oggi voglio dire, con il Klatasarai, con Icardi, poi hanno preso Semen, Torreira, eccetera, eccetera, è una squadra di tutto rispetto. Sono campioni di Svizzera, sono partiti male quest'anno, ma come tutti i campionati, succede che magari vai male in campionato, ma in Europa non è una squadra, non sto dicendo che è una squadra temibile, una squadra di alto rango, una squadra... no! Sto dicendo che se è una squadra che sta in Champions, vuol dire che in Champions ci può stare. Gli esempi appunto sono diversi. Oggi il Leverkusen ha pareggiato con il Brest, lo stesso Leverkusen che l'anno scorso maciullava chiunque, faticò enormemente con il Carabag, per dire, in Europa League. Può succedere, soprattutto se vai con una certa rilassatezza, cosa che ho visto stasera purtroppo nell'Inter, ma soprattutto non vai nelle migliori condizioni generali, perché al di là del turnover che uno vuole fare, perché l'Inter ha fatto tanto turnover anche col City e l'ha fatto pure in casa con la Stella Rossa, eppure le prestazioni sono state molto differenti da quella di stasera. Al di là poi di come sia andata, comunque tre punti, guardiamo oltre, guardiamo oltre, la prestazione è stata, secondo me, ampiamente negativa. Va detto, come era stata ampiamente positiva, al di là dello 0-0, potevi pure perdere col City. Oggi hai sbagliato il rigore, bisse che sei mangiato un gol davanti alla porta, sei l'ischio che sei mangiato un gol davanti alla porta, eccetera, eccetera. Hai rischiato pure qualcosina, soprattutto sul palo di Montè, ma la prestazione in generale non è stata all'altezza. Non dobbiamo far finta di niente. Non lo è stata, secondo me, soprattutto per un motivo. Sei andato con una formazione altamente sperimentale. Questo è il primo motivo. E non è questione di singoli, è questione della somma dei singoli. Perché singolarmente non c'è comunque partita tra quelli dell'Inter e quelli dello Young Boys. Il problema è che il bello del calcio è che è un gioco di squadra. E deve funzionare l'insieme, deve funzionare l'associazione tra i singoli. Non basta la somma dei singoli. Bisogna vedere come si sommano questi singoli. E questa è una squadra inedita. È una squadra priva di tanti cervelli, bastoni, acerbi volendo, che comunque fa parte della spina dorsale, Cialanolu, Aslani, che è il sostituto di Cialanolu, e Lautaretto Ramma davanti. Ci mettiamo pure Di Marco. Ecco. Ci mettiamo la prestazione sotto tono di alcuni che con la Sella rossa abbiamo fatto piuttosto bene, come Taremi Arnatovic. Stasera hanno deluso, soprattutto all'Austriaco. L'ultima cosa in rigore. L'ultima cosa in rigore. Tirato malissimo. Guardando per terra. Centrale. Cioè, peggio di così, non si può proprio. Non si può. Lautaro colpi. Qualcosina. Io non lo so, ragazzi. A me sembra il Milito post-triplete. È ancora un po' la sbornia. Infatti, quell'anno, se vi ricordate, chi è che tirava la carretta inizialmente nei primi mesi? È Toto. E quest'anno si sta ripetendo, no? Tra i tuoi Milito. Quest'anno è Tioram. Non a caso gol di Tioram. Che poi ancora non ho capito se è gol, deviazione di Benito. Certo, con quel nome te lo meriti. Bene di Marco. Male Carlos Augusto. Doppiamente male. Seppure fatto male. Deionfis ha quantomeno alternato, è stato anche più stimolato. Qualcosa ha fatto. La confusione organizzata in qualche modo ha portato, avrebbe portato anche al cartellino rosso, in realtà due cartellini rossi. Perché il primo è prendere uno schiaffettone in testa. e non è che noi in mezzo al campo possiamo tirare le gomitate come Douglas Lewis o tirare gli schiaffettoni come Montego. Non si può. Cioè non è l'intensità, sai, l'intensità. Ancora non avete capito. Non è questa di intensità. È quello di gesto. Avrebbe anche potuto mancarlo. È chiaro che non è che gli tira una papagna come te la tiro io che ti spiacci con faccia al muro e non respiri più. Gli tira uno schiaffetto. Vi ricordate dei Paul Candreva? È il gesto che viene. Cioè ancora non si capisce che non viene punita l'intensità dove di colpire. Non è box. Il montante sul mento o il colpo alle fianchette. Non è box. È calcio. Le mani vanno tenute in tasca. Se mi dire uno schiaffo eppure se provi a tirarmi e non ci riesci perché io me scanto è rosso lo stesso. E ne manca uno. Manca il secondo su Ajan quando trattiene è la trattenuta è fallo però non è una trattenuta proprio da giallo. Sì perché gli perdi il passo va in porta non va più in porta. Cioè lì Bissek poi Bissek scusate è mezzo schiaffi si tritiene la testa esagera e non dovrebbe esagerare ma eppure nonostante però l'esagerazione comunque Oliver non ammonisce. Ma non vuole essere un alibi è cronaca apro e chiudo parentesi perché poi l'Inter comunque sbaglia il rigore e poi non ho capito perché c'è stato il controllo. Forse qualcuno era entrato prima ma forse era entrato prima pure Deuzefrize non lo so devo rivederlo. ma in genere io voglio ecco oggi più che mai più degli episodi andrei a parlare proprio della prestazione la prestazione non mi è piaciuta Barella troppo lezioso ha fatto tanto ha fatto tantissimo ha rincorso fino al 94 95 non si può dire nulla su Barella e non è è tutt'altro che insufficiente la propria di Barella talvolta in quel ruolo non puoi permetterti di essere così lezioso anche se devi fronte allo Young Boys con la Roma ma è stata tutta un altro livello ecco quest'Inter mi sembra che si tari come un camaleonte e si adagi a seconda del il camaleonte a seconda di quello che si trova a Sormonta e l'Inter a seconda dell'avversario che si trova ad affrontare cioè avversario forte prestazione alta derby a parte non fate battute prestazione avversario medio prestazione media avversario debole prestazione debole ecco non deve essere così non deve essere così può essere così nel calcio capita spessissimo che sia così nel calcio non deve essere così questi tre punti erano fondamentali visto adesso il calendario in Champions la vera nota negativa secondo me non è tanto sulla prestazione è negativa ma non è un qualcosa che ti porti dietro secondo me comunque hai vinto ti porti l'ennesimo infortunio muscolare il campo ha inciso secondo me in tutto sembravano pattinare sembrava sembrava veramente FC 25 FC 24 o FIFA 21 come lo vogliamo chiamare avete visto come camminava sembravano trattenuti quasi a schivare lo scivolone e quindi può essere stato un fattore non ho visto tutti i tacchetti adeguati io mi domando perché forse qualcuno ha scelto comunque di andare quei tacchetti tipici secondo me non va bene tanti hanno tanti sono scivolati e quindi su Carlos Augusto non so se è inciso anche questa cosa qui è chiaro che è uno di quelli che non è andato in nazionale è uno di quelli che ha giocato meno tra virgolette rispetto non ha giocato poco ma ha giocato meno rispetto ad altri e se fa male lo stesso dal movimento temo temo dal movimento da come si è fermato temo sia qualcosa di più grave di un'elungazione che se ne dica l'elungazione è una sciocchezza poi è chiaro te capi nella settimana di young boys napoli eccetera juve scusate e vabbè secondo me Carlos Augusto è stirato stirato vuol dire se ne passa un mesetto buono è grave come mancanza perché lì adesso hai Palacios che magari ti può tornare utile in campionato Haida Armiana che può giocare a sinistra per far rifiatare Di Marco a questo punto speriamo che torni il prima possibile a Buchanan quanto mai saggia l'idea di comunque inserirlo in lista UEFA e quindi speriamo in Buchanan perché gli serve veramente un ricambio a Di Marco adesso senza Carlos Augusto proprio in questo ciclo terribile io penso che per Carlos Augusto aspettate eh da uno sguardo rapido se ne ripara il 23 novembre è la prima partita dopo la sosta ecco io credo che non ce la possa fare per il 10 con il Napoli che è l'ultima partita prima della sosta 10 novembre parlo eh quindi secondo me ne riparliamo appunto fra un mese il 23 novembre così a spanne vedendo un po' la dinamica e vedendo lui come si teneva dietro la coscia adesso dava da capire che tipo di muscolo è interessato eh nota lieta l'ingresso l'impatto di Thuram beh in realtà mi piacevo pure i celischi andavo pure vicino al golo con quel tiro da fuori bello a girare di sinistro bene ovviamente di Marco e Bastoni ma vabbè ma che ve lo dico a fa eh è un peccato che se è decorato quel gol da 5 metri la va di collo a parte che lui pure uno di uno come lui pure va di collo la deve mettere tutto il set ma lì facile col piattone la metti in porta a volte sta cosa che manca quella attiveria spacca la porta oppure mettercene troppa vabbè mi dispiace molto per gli attaccanti perché da remis è dato da fare ma non è stato sufficiente come come prova anche considerando l'avversario ripeto che non è un avversario perché ve l'avevo detto occhio io sto tenendo tanti trionfalismi lo Young Boys è una squadra comunque che sta in Champions è comunque una squadra seria che peraltro casa sua ha battuto il Napoli ha battuto la Juve in questi anni di Champions così e ha pareggiato con l'Atalanta sempre in Europa qualcosa riesce comunque a cacciarlo fuori poi hanno cambiato allenatore nuovi nuovi stili hanno messo qualcosa di nuovo si è visto io ho studiato un po' lo Young Boys l'avevo visto anche nel doppio confronto con il Galatasaray quindi sembra che c'era quel Virginius che a me era piaciuto tanto contro il Galatasaray e invece poi era stato accantonato da ramen oggi titolare chiaramente con Magnin detto questo detto tutto ci rivediamo a domani magari per commentare anche gli altri risultati perché anche l'Atalanta era 0-0 fino a 85 e poi non so com'è finito mi piace troppo vedere le partite senza sapere i risultati un saluto